L'euro sta chiudendo un anno di grandi rivalutazioni nei confronti delle altre monete, delle importanti aree economiche del mondo, rivalutazioni spesso a doppia cifra sullo yen giapponese, sul real brasiliano, sull'India, sulla Russia, rivalutazioni anche nei confronti del dollaro, il dollaro si è svalutato del 4% sull'euro. Questo naturalmente complica il compito degli esportatori, gli esportatori che cercano di vendere i loro beni e servizi fuori dall'area euro. Purtroppo questo rischia di vanificare una parte degli sforzi nel nostro paese, del sistema Italia, per ridurre i costi di produzione, dunque vanifica una parte dei sacrifici. La domanda è se sarebbe meglio senza euro? La risposta è no. L'esempio di paesi che hanno svalutato drasticamente, come l'Argentina, ci dimostrano che una svalutazione drastica non funziona e porta a un dramma sociale ancora peggiore.